È successo questo, ho proprio toccato il punto più basso a livello proprio emotivo, mentale, della mia vita, perché dire della carriera, nel senso in quattro anni ho avuto successo, poi c'è stato quel momento lì, ma proprio mi sono... Sai quando si dice che devi voler star bene, no? Perché davvero mi sono dovuto stancare di stare male, ho dovuto proprio vedere che non potevo guadagnarci più niente dallo stare male, perché tante volte magari invece sai quando sei abituato a stare in un certo modo, siccome diventa un po' un'abitudine, è quasi la tua quotidianità, quindi ti sembra di difendere quel poco che hai, Però è diventato talmente poco che non avevo più niente da tenermi, quindi avevo tutto da guadagnare a cambiare atteggiamento, cambiare vita.